Vaccinazioni a ritmo serrato sul nostro territorio. In stretto coordinamento con Regione Lombardia, la SST Vale Camonica sta infatti procedendo in maniera serrata nella campagna vaccinale anti-SARS-CoV-2. A partire da questo sabato 9 gennaio è programmata la somministrazione di più di 300 dosi di vaccino al giorno nei punti vaccinali istituiti presso gli ospedali di Edolo ed Esine. Entro il 16 gennaio è invece prevista la conclusione della somministrazione della prima dose del vaccino Pfizer-BioNTech alle categorie da cui è iniziata la prima fase di vaccinazione e che hanno manifestato la loro adesione, ovvero tutti gli operatori aziendali, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta del territorio della Valle Camonica, personale della TS della Montagna, medici di continuità assistenziale delle USCA, nonché operatori e soccorritori del 118. L'adesione alla campagna dei dipendenti della SST della Val Camonica è molto alta, ad oggi hanno derito 1.038 dipendenti per una percentuale pari all'83%. Nel contempo si è provveduto a formare gli operatori delle RSA che devono erogare il vaccino. Il percorso di formazione tenuto dal personale della SST si concluderà nella giornata di martedì 12 gennaio. Inoltre questo giovedì ha avuto inizio la distribuzione del vaccino all'RSA del territorio. Le prime dosi sono state consegnate all'RSA di Lozio, Borno, Malonno e Capo di Ponte. A partire da lunedì prossimo è previsto invece un calendario di consegne settimanali effettuato sulla base delle richieste provenienti da tutte le RSA. Grazie